Si è svolto al Palariviera di San Benedetto del Tronto il decimo congresso regionale della CGL delle Marche, dove oltre ad affrontare i problemi portati dalla crisi economica, è stato riconfermato il segretario regionale Gianni Venturi. È stato un grande congresso, in un mese e poco più abbiamo organizzato e tenuto 2.401 assemblee nelle quali sono intervenuti più di 40.000 iscritti e iscritte alla CGL e in primo luogo l'emergenza è quella di continuare a contrastare e contenere gli effetti della crisi stessa. Allo stesso tempo però pensiamo che sia indispensabile uscire dalla crisi. Emergenza occupazionale, riposizionamento strategico del modello di sviluppo produttivo marchigiano sono stati alcuni dei temi affrontati nel congresso, ma si è parlato anche di appalti. Assistiamo sempre più spesso al ribasso d'asta troppo elevato, così come quando avvengono queste cose al peggioramento delle condizioni salariali e di sicurezza dei lavoratori. Riteniamo che probabilmente serve un impegno ad accettare in qualche modo e a condividere protocolli sulla modalità per dare forme di appalto, sia nel pubblico che nel privato. Tra i vari temi affrontati dal congresso non poteva mancare il problema scuola. Nelle Marche stiamo toccando con mano gli effetti della prima tranche d'Italia della cosiddetta riforma Germini. Abbiamo perso 1.333 posti di lavoro che si sono tradotti in meno insegnamenti, meno ore di scuola, classi più numerose e fortissime difficoltà. Oggi noi stiamo attendendo la seconda tranche d'Italia, ci aspettiamo nelle Marche altri 1.000 posti di lavoro che si perderanno. Necessaria per CGL una riconversione eco-industriale che garantisca un'occupazione di qualità e contrasti il diffondersi della precarietà.